salve sono qui dietro di lei mi chiamo laura e sono un'immagine virtuale creata per accompagnarla in questa visita all'interno di Vempa Auto come saprete Vempa Auto è rivenditore ufficiale Toyota e grazie alla sua vasta gamma di vetture è da sempre impegnato nell'incontrare le esigenze di ogni singolo cliente abbiamo auto pensate per essere comode in città eleganti e anche sportive e siccome è importante tenere sotto controllo i consumi per il suo portafoglio e per l'ambiente proponiamo anche la versione ibrida che non è affatto male da guidare scusate dimenticavo mentre lei sta guardando questo video i nostri meccanici certificati Toyota si stanno prendendo cura della sua auto no ma niente di complicato invasivo stanno soltanto verificando che tutti i livelli siano a posto e già che ci sono fanno anche dei test diagnostici sulla vettura visto? è tutto a posto questa è la parte che preferisco quella del test drive certo nella realtà faranno guidare lei ma ora si rilassi e si goda il viaggio beh descriverle com'è guidare una Toyota non c'è bisogno perché lei lo sa già e allora vorrei approfittare di questi ultimi istanti insieme per augurarle una felice permanenza all'interno di Vempa Auto e per ricordarle che per qualsiasi richiesta o domanda può contattare direttamente il nostro personale all'interno del salone beh a questo punto non mi resta che augurarle buon viaggio con Vempa Auto e ora può togliere il visore pericolare